Questa è una zuppa che parte da un brodo dashi e un brodo mensuyo con funghi shiitake, pollo chibi tea e miso. Le materie prime di questo piatto non richiedono lunghe cotture, basta ridurre le basi, filtrarle e unire il tutto per poi accompagnarle con gli udon, il tofu, l'uovo, zichimito garashi e cipollotto.